E dunque siamo arrivati a 17.000 iscritti, quindi un ringraziamento come sempre, festeggiamo tra virgolette con un altro unboxing importante, quello del Galaxy S20 Ultra 5G chiaramente, altro top di gamma appena uscito di casa Samsung, di cui vedremo anche la recensione nei prossimi giorni. Iniziamo! Eccoci davanti alla confezione che riporta il nome come da prassi, S20 Ultra 5G come abbiamo visto, prima differenza sostanziale, dietro non troviamo le caratteristiche tecniche come abbiamo visto anche su altri modelli e solo su uno dei lati troviamo il nome dello smartphone, quindi anche in questo caso Galaxy S20 Ultra 5G. Andiamo ad aprire la confezione. Nella parte interna troviamo qui dietro il manuale di istruzioni, comunque la guida alla garanzia e la clip per la sim, il telefono per il proprio, 6,9 pollici di schermo in questo caso, un Dynamic AMOLED, l'imponente lato fotografico che vedremo dopo meglio. Andando avanti abbiamo il caricatore rapido, cavo Type-C, cuffia KG di tipo C e nient'altro fondamentalmente, quindi passiamo allo smartphone. Andiamo a questo punto a rimuovere la pellicola e nella parte frontale ne troviamo un'altra che però è già preapplicata sullo schermo come in precedenza su altri top di gamma, quindi la lasciamo com'è. Accendiamo lo smartphone e mentre il telefono parte diamo un'occhiata più da vicino alla sua composizione. Abbiamo una USB-C nella parte inferiore, niente jack per le cuffie, cassa nella parte da sempre inferiore con uno dei microfoni, sul lato sinistro nessun pulsante particolare, sul lato destro troviamo al loro solido posto il pulsante power e il bilanciere del volume. Nella parte superiore la slitta per l'inserimento della sim, un altro microfono, e poi non ci sono altri elementi particolari, se non ovviamente la grossa fotocamera che troviamo nella parte posteriore. che racchiude più ottiche, ma ci arriveremo tra un attimo. A questo punto siamo sulla schermata principale e facciamo la prima configurazione. Come sempre bisogna scegliere la lingua. Vi consiglio comunque di non togliere la pellicola e tenerla perlomeno nella parte iniziale. Vedremo anche un video dedicato alle pellicole, ve lo lascio nelle schede se è già uscito. Comunque è ottima, perché sugli altri smartphone l'ho tenuta con il tempo e resiste anche alle date e non trattiene lo sporco, quindi pienamente approvata. Accettiamo tutti i vari dati e ci colleghiamo alla rete Wi-Fi. Come sempre possiamo fare il trasferimento da un altro smartphone. avendo vicino il mio Galaxy Note 10 Plus, posso attivare Smart Switch e fare la copia di tutti i vari dati. La procedura avviene automaticamente, basta settare e dare gli input in entrambe le parti e si possono trasferire anche gli account. A fine configurazione il telefono comunque di Switch, per così dire, continua il trasferimento se ovviamente c'è ancora necessità. E possiamo vederlo anche dalla barra delle notifiche con l'avanzamento in termini percentuali. Possiamo andare a configurare il telefono per la gestione dello schermo, quindi del desktop io andrò a inserire icone più piccole similari a quelle che ho sul Note 10 ma diamo qualche riferimento sulla scheda tecnica perché lo schermo, come possiamo vedere, da 6,9 pollici come vi ho detto è un Quad HD 1440x3200 pixel e un 20 noni, anche in questo caso full screen con la fotocamera frontale che è praticamente un foro che troviamo nella parte superiore del telefono. A bordo abbiamo Android 10, un Exynos 990, 990, con un processo produttivo a 7 nanometri. Sulla versione americana abbiamo ancora lo Snapdragon, non ci sono ancora test però presumo in linea con quanto detto con il Galaxy Fold che i consumi probabilmente saranno ottimizzati meglio sulla versione Snapdragon. Lo vedremo poi successivamente, magari anche se qui per l'autonomia abbiamo un altro peso massimo tra virgolette perché abbiamo una batteria da ben 5000 mAh, ovviamente si trova nella parte posteriore con ricarica wireless e mi aggancio alla parte posteriore per parlare della fotocamera dove troviamo in alto a destra il flash LED ma tutta una serie di sensori diversi e troviamo oltre alla fotocamera da 100x, quindi uno zoom davvero esagerato per così dire anche un sensore con teleobiettivo da 48 megapixel che arriva a 103 mm di focale effettiva o una fotocamera ultra wide, quindi grandangolare da 12 megapixel. Il tutto poi dipende dal tipo di funzionalità che utilizziamo perché per esempio il teleobiettivo ha uno zoom ibrido, quindi arriva comunque molto lontano mantenendo un'ottima qualità, ma lo approfondiremo meglio in fase di recensione. Per quanto riguarda invece la fotocamera frontale possiamo fare un rapido approfondimento perché la fotocamera è unica però possiamo scegliere due modalità, quindi una un po' più grandangolare come vediamo oppure una più centrale con un pizzico di crop probabilmente e qui abbiamo addirittura 40 megapixel a disposizione, quindi selfie praticamente esagerati in termini di risoluzione e possiamo anche fare un video con la fotocamera frontale in 4K, ovviamente con le misure verticali. A questo si aggiunge il modello da 128 GB, quindi questo è quello tra virgolette standard di Galaxy S20 Ultra e ben 12 GB di RAM che abbiamo visto anche sul Galaxy Fold e come vi ho detto secondo me non sono così necessari tra virgolette, anche 8 andavano bene, comunque ne abbiamo 12, possiamo abbondare. Sulla carta questo smartphone si presenta chiaramente al top con uno dei migliori schermi se non il migliore sul mercato compatibilità HDR10+, audio stereo e novità i 120 Hz, quindi possibilità di andare a ottenere un'esperienza di utilizzo molto più fluida con l'unica differenza però che bisogna affermare la risoluzione al Full HD stesso, quindi non sfruttare appieno lo schermo anche se la differenza effettiva poi è molto difficile da notare tra l'una e l'altra risoluzione. Lo vedremo comunque meglio in fase di recensione che come sapete io tengo sempre gli smartphone con la massima qualità disponibile sul display per sfruttare meglio gli AMOLED di Samsung che sono come sapete i miei schermi preferiti. Per quanto riguarda il Wi-Fi abbiamo l'ultimo standard, la X Bluetooth 5.0 USB 3.2 di tipo C e lettore di impronte sotto lo schermo. Quindi gestione anche per l'NFC, pagamenti in modo smart appoggiando il telefono e sbloccando magari con l'impronta. Presente il reverse charging quindi è possibile ricaricare lo smartwatch direttamente con la parte posteriore del telefono e questo va a chiudere la nostra scheda tecnica rispetto appunto al Note 10 Plus di cui forse vedremo anche un video di confronto. Ci sono dei passi in avanti sicuramente molto anche sul lato fotocamera che come abbiamo visto va un po' a ingrombrare però dal punto di vista computazionale non siamo a anni luce più avanti. Per quanto riguarda il resto del commento che c'è vi aspetto nei commenti per fare un paragone magari o comunque parlare del nuovo smartphone. La procedura di avvio come sempre è abbastanza semplice, vi rimando anche al video di applicazione della pellicola per proteggere questo ottimo schermo e in descrizione vi lascio gli articoli di approfondimento. Come sempre lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video a tema Galaxy S20 Ultra e non solo e noi ci vediamo al prossimo video.